1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi Faccio che ho ribellare Libera contro le mafie arriva Enna Giorno 12 giugno alle ore 17 Don Luigi Igiotti incontra la cizia di Nanza alla sala genere A seguire inaugureremo il presidio di Libera Intitolato a Patrizia Scifo, vittima innocente della mafia Il presidio nascerà al Centro Atlantis Coworking Associativo in via Civiltà del Lavoro 15H Sarà una gran festa, quindi Vi asperiamo! Libera contro le mafie! Il mio padre, la mia famiglia e il mio padre Io voglio portermene, io voglio scrivere i canabalti Lo portate in fretta, io voglio portare!